Non mi nascondo che questa sera l'incontro è un po' difficile, perché la tentazione è quella di starsi zitti davanti all'Equarestia. Davanti all'Equarestia dovrebbero tacere le parole e lasciarsi parlare nel cuore. E attenzione, neanche il nostro cuore a parlare, ma davanti all'Equarestia lasciarsi parlare nel cuore. Bello il canto, non lo conoscevo questo canto. Sono qui, il mio cuore è davanti al tuo cuore. E' un'espressione molto bella poi stata usata, ti fidanzerò. Nel libro di Osea così dice il Signore, io ti fidanzerò. Come un giovane si fidanza con una giovane. E lì il termine dice, l'originale, come un giovane si fidanza con una vergine, così io ti fidanzerò. Quindi vuol dire che quando il Signore si rapporta con noi, vede il nostro cuore sempre vergine, cioè sempre in quella possibilità che non è viziato da niente. Perché è la forza della sua parola questa, è la forza della sua presenza. Perché il Signore quando ci incontra, non ci incontra mai facendo riferimento al nostro passato. Il Signore non ci incontra mai come se già ci conosce, vabbè già so chi sei, già conosco la tua vita. Tutte le volte che il Signore ci incontra, ci vuole incontrare, e noi gli permettiamo l'accadimento di questo incontro, Lui ci rende sempre vergine. C'è sempre in quella possibilità di novità. E questo, vedete, noi lo sperimentiamo in questo atto dell'adorazione equaristica, che è uno degli atti insieme alla Messa più gratuiti che noi abbiamo. Perché in questo momento noi non produciamo niente. Questo è un momento improduttivo, perché noi non produciamo niente. Siamo un grembo che ci è data la possibilità di accogliere per poter generare. Nell'adorazione equaristica noi permettiamo a Dio di essere Dio come Lui vuole essere Dio, non come vogliamo noi. Nell'adorazione equaristica tutte le nostre idee di Dio vengono tutte meno. Tutte le idee che noi abbiamo di Dio vengono meno. E nell'adorazione equaristica scopriamo veramente Dio. Veniamo dalla celebrazione del Corpo e Sangue del Signore domenica scorsa. E questo pane che sta davanti sotto i nostri occhi, intanto lo teniamo perché ci ricorda proprio la celebrazione dove è stato consagrato questo pane. E quindi ci richiama a quel dinamismo di donazione. E quindi chi è il nostro Dio? E' questo Dio che sta sull'altare, questo è il nostro Dio, non un altro. E' questo qui che sta sull'altare. E' sull'altare come tutti gli altari di questo mondo, che è una mensa, come tutte le mense di questo mondo, che è una tavola apparecchiata, come tutte le tavole apparecchiate di questo mondo, il pane che si mette sulla tavola, lo si mette per essere mangiato. E anche se noi adesso qui lo stiamo adorando, lo stiamo contemplando, lo stiamo guardando con gli occhi, nel nostro cuore fondamentalmente ci dovrebbe essere una cosa, Gesù, ti mangio con gli occhi. Rada a pensare quando facciamo la dieta, oppure abbiamo problemi di glicemia, certe cose non le possiamo mangiare, ce le mangiamo solo con gli occhi. E' l'unico modo possibile. Il pane si dà per essere mangiato. Avete mai usato l'espressione ti mangerei di baci? Vicino ai bambini, sinceramente lo si dice. Quanto è bello questo bambino proprio, me lo mangerei di baci. Chi è il nostro Dio? Il Dio che si lascia mangiare. Si lascia mangiare per poter sfamare il nostro bisogno. E sapete la provocazione più grande qual è? Proprio questa, adesso chiederci se abbiamo fame di Lui. Perché potremmo mangiare anche senza sentire il bisogno della fame. Dicevo, ecco la difficoltà è proprio questa, parlare, parlare di Lui, e perché dovrei parlare di Lui quando Lui sta qui? Allora, sto di lato, cerco di essere una risonanza di quella parola che è stata messa per iscritta nell'Evangelio, e quindi quella parola che è diventata anche un segno per arrivare fino a noi, perché se quello che Lui ha detto e ha fatto, qualcuno non l'avesse messo per iscritto, noi non lo troveremmo, e non lo sapremo forse. E quindi un eco di ciò che sta scritto affinché diventi esperienza di incontro per noi, anche attraverso il segno sacramentale dell'Equarestia. Allora, riprendiamo il capitolo 21, se ricordate, che vedemmo 15 giorni fa, e completiamo e così chiudiamo. E se ricordate, in questo capitolo 21 è l'ultima apparizione in pratica che abbiamo di risorto, secondo il Vangelo di Giovanni, chiaramente. E se ricordate, così giusto per collegarci con il vero di questa sera, abbiamo l'esperienza di sette dei dodici, dove all'improvviso, a un certo punto, uno di questi sette, di questi dodici, prende una sua iniziativa, Simon Pietro, se ricordate, io vado a pescare. Già lo dicevo la volta scorsa, se ricordate, Gesù non c'è. O meglio, Simon Pietro e gli altri non riescono ancora a coglierlo. E siccome il Signore si manifesta, come abbiamo detto l'altra scorsa, sempre in modo diverso, in base ai nostri momenti, alle nostre situazioni, lì Simon Pietro e gli altri sei vivono un'esperienza particolare della loro vita e in quell'esperienza particolare della loro vita non si rendono conto del modo in cui Gesù si sta manifestando a loro. Perché il rischio che ne potremmo correre è pensare che Gesù si manifesti sempre in un modo particolare e quindi non cogliere le altre manifestazioni di Gesù. Attenzione, questo perché noi potremmo cogliere Gesù che si manifesta lì, però potremmo non coglierlo Gesù che si manifesta in noi. Potremmo non cogliere Gesù che si manifesta in una situazione. è una situazione particolare là fuori. Allora, le manifestazioni del risorto, a questo vogliono abituarci, ai modi diversi attraverso i quali il Signore si manifesta. E guardate, si manifesta sempre. Sapete perché? Perché Lui è il vivente. Se non fosse il vivente, non si manifesterebbe. Ma essendo il vivente si manifesta. Quindi vi ricordate, vanno a pescare, non pescano nulla, poi Gesù sulla riva lì, finalmente poi si rende più esplicito la sua presenza, in cui rendersi presente, di nuovo li invita a pescare, fanno la pesca cosiddetta miracolosa, lo riconoscono, quindi dall'ignoranza alla conoscenza. Pietro fa quel gesto, il ridotto si getta in acqua, lo raggiunge a riva, subito fa, poi arrivano gli altri, e Gesù chiede del pesce per poter mangiare, quello che hanno preso loro, però Lui già ha preparato. E quindi mangiano insieme. E qui ci lasciamo qui, su questo brano qui, su questo punto qui. Adesso c'è la seconda parte. La seconda parte, pensando a quello che adesso leggerò e che voi ricordate, ho pensato di farlo davanti all'Equarestia. Leggo il brano, lo leggo per intero, e poi dopo ci ritorniamo sopra, pian piano. Stiamo a versetto 15, perché è il foglietto. Quando ebbero mangiato, Gesù disse a Simon Pietro, Simone, figlio di Giovanni, mi ami più di costoro? Gli rispose, certo signore, tu lo sai che ti voglio bene. Gli disse, pasci i miei agnelli. Gli disse di nuovo per la seconda volta, Simone, figlio di Giovanni, mi ami? Gli rispose, certo signore, tu lo sai che ti voglio bene. Gli disse, pascola le mie pecore. Gli disse per la terza volta, Simone, figlio di Giovanni, mi vuoi bene? Pietro rimase addolorato che per la terza volta gli domandasse, mi vuoi bene? E gli disse, signore, tu conosci tutto. Tu sai che ti voglio bene. Gli rispose Gesù, pasci le mie pecore. In verità, in verità io ti dico, quando eri più giovane ti vestivi da solo e andavi dove volevi, ma quando sarai vecchio tenderai le tue mani e un altro ti vestirà e ti porterà dove tu non vuoi. Questo disse per indicare con quale morte egli avrebbe glorificato Dio. E detto questo aggiunse, seguimi. Ricordate prima di questo brano noi, Simon Pietro, dove l'avevamo visto l'ultima volta? L'avevamo visto nel cortile della serva, del pretorio, quando c'era la serva lì nel cortile e lo riconobbe. Si stava riscaldando Pietro, mentre stavano facendo il processo a Gesù. E ricordate Pietro cosa disse in quel cortile? Quando la serva, riconoscendolo come uno di quelli, perché la sua parlatura lo tradiva, Pietro disse, non lo conosco, per tre volte. Noi lì abbiamo lasciato Pietro, se ricordate. Poi è vero, nel capitolo 20 abbiamo visto che Maria di Magdala corse a chiamarli, e lui corse, però poi non sappiamo più niente. Ora ritorna, e adesso dice il testo, quando ebbero mangiato l'azione di prima? Gesù l'ha preparato, chiede di portare il pesce che avete preso ora, e quindi hanno mangiato. Gesù disse a Simone, c'è il faccia a faccia tra Gesù e Simone. C'è il faccia a faccia tra Gesù e noi. E siccome Simone Pietro viene dall'esperienza del rinnegamento per tre volte, adesso è il momento del faccia a faccia dell'incontro. È il momento dove Pietro è chiamato a rendere conto di quel suo rinnegamento. Come diremo noi, tutti i nodi vengono a pettine. Facciamo i conti. Chiaramente Gesù adesso sta per affrontare Pietro. Però avete sentito, Gesù non affronta Pietro. O meglio, non l'affronta sul terreno del suo rinnegamento. Gesù non gli dice, Pietro, Pietro, che hai combinato. Capite? Quando noi ci mettiamo davanti a Gesù, il rischio che noi corriamo è che già sappiamo, pensiamo, immaginiamo, Gesù che cosa ci voglia dire. Eh, mo' lo so Gesù, adesso mi vuoi rimproverare perché ho sbagliato. Voi immaginatevi se Gesù sull'altare, adesso in questo momento, nella mia preghiera personale, Lui parlando al mio cuore, secondo voi mi viene a sannocciolare i peccati che ho fatto? O non piuttosto mi viene a dire qualcosa in più? E non tanti i miei peccati. Ed è bello perché quando ebbero mangiato, prima l'ha fatto mangiare. Mangia con calma. Perché altrimenti o questo ti può andare di traverso, oppure ti puoi rovinare il pranzo, la cena. Quindi prima mangia, hai la forza, e poi dopo c'è la missione. Perché la missione è sempre dopo. Gesù non ci manda mai allo sbaraglio. Ma c'è sempre prima un comunicarsi nell'intimità del mangiare insieme. Gli disse a Simon Pietro, e allora vedete, adesso il colloquio è personale, non è più Gesù e gli altri, Gesù e Simon Pietro. E gli dice, Simone, figlio di Giovanni, come mai lo chiama di nuovo Simone? Quando l'aveva chiamato Pietro. Perché quando gli cambiò il nome, vi ricordate? Ti chiamerai Pietro, perché su questa pietra edificherò la mia chiesa. Ora Gesù sta parlando, non con Pietro, il Papa, quello che sarà assistito quando si pronuncerà a livello di fede, perché quando Pietro fece la professione, Gesù gli disse, beato tu Simone, figlio di Giovanni, perché necca ne sangue, ma il Padre mio te l'ha rivelato. Ora Gesù non sta parlando a Pietro, che si lascia assistere dallo Spirito, mentre il Padre gli rivela la verità di fede. sta parlando a Simone, all'uomo. A quell'uomo che ha detto non lo conosco, non ha presuntuoso, io darò la mia vita per te. Però Simone crede di essere quello lì, capite? Simone crede che nel momento quando le cose vanno bene, io darò la vita per te. Perché quando le cose vanno bene, anche a noi, noi siamo capaci di fare i gesti perici di questo mondo, quando le cose vanno bene. Poi nella prova, il passo indietro. E Gesù, a questo uomo qui sta parlando. perché vedete, adesso si tratta che Simon Pietro, Simone, deve conoscere lui chi è. Perché se tu non conosci, tu chi sei, non lo conosci. E conoscendo veramente lui che ti conosce, tu ti riconosci. non vi ludete, da soli, noi non ci conosciamo. È l'altro che mi fa conoscere chi sono io. E quando l'altro mi dice tu sei troppo rigido, tu sei antipatico, tu sei alto, tu sei nervoso, tantissime altre cose che ci possono dire. Forse sta gettando un momento di luce sulla mia vita. E io potrei non cogliere quella verità su me stesso in quel momento. Se lo dico come un rimprovero, allora certamente non coglierò perché c'è l'animosità dentro. Ma se lo dico con un altro procedimento come quello che fa Gesù, che aiuta Simone a capire veramente chi è lui, allora sì, che accoglierò. Simone, figlio di Giovanni, quindi proprio tu, Simone, figlio di Giovanni, non un Simone qualsiasi, Simone tu. Ricordate la genealogia, no, dietro al nome la storia. Tu, figlio di Giovanni, quindi quello lì, mi ami più di costoro. Che cosa sta chiedendo Gesù di essere amato? Gesù, un mendicante d'amore. Che cosa ci chiede Gesù se mi ami? Guardate, al di là delle belle canzoni che noi abbiamo sull'amore o delle poesie che abbiamo sull'amore, l'amore è qualche altra cosa. Gesù sta dicendo a Simone l'amore perché Gesù ha amato. Ricordate come iniziamo questi Vangeli di Pasqua col capitolo 19, Gesù avendo amato i suoi che erano nel mondo li amò sino alla fine. Con l'ultima cena, se vi ricordate, la lavanda di piedi quando vedemmo anche. Quindi, capite, allora, quello che ho fatto io fatelo anche voi. Allora, Simone, mi ami più di costoro. Ora, più di costoro chi? Gli altri sei che stanno lì? Quindi, Gesù sta chiedendo un amore esclusivo, un amore unico, un amore totale. Mi ami più di costoro. Gli rispose, certo, Signore, tu lo sai che ti voglio bene. attenzione, vedete, non tanto c'è una differenza, perché Gesù chiede, mi ami? Simone risponde, certo, Signore, vedete, certo, ancora la certezza, certo, Signore, quindi, tu lo sai, ti voglio bene. Mi ami, ti voglio bene. mi ami, il termine greco è agape, cioè, di questo amore totale, donativo, di donazione. Ti voglio bene, amicizia, fileo. Cioè, Gesù dice, tu mi ami in modo proprio da donare in modo incondizionato. Gli dice, io ti voglio bene come un amico. qualcosa non quadra. Perché lui chiede una cosa e io di qua gli dico un'altra cosa. La risposta giusta quale poteva essere, secondo voi, mi ami? No, non riesco ad amarti. Invece non riesce a dire non riesco ad amarti. Gli dice, ti voglio bene. Però glielo dice anche con certo, Signore, mi ami? Certo, Signore, tu lo sai che ti voglio bene. Gli disse di nuovo per la seconda volta, Simone, figlio di Giovanni, mi ami? Non c'è più adesso più di costoro. Lasciamo stare questi di mezzo, lasciamo stare adesso un riferimento, un confronto con altre realtà. Mi ami? Senza paragoni. Mi ami? Gli rispose, è certo, Signore, tu lo sai che ti voglio bene. Mi ami? Ti voglio bene. Gli disse per la terza volta, attenzione adesso, Simone, figlio di Giovanni, mi vuoi bene. dice il testo, Pietro rimase addolorato che per la terza volta gli dicesse, mi vuoi bene. è meraviglioso e tragico nello stesso tempo. è meraviglioso perché, vedete, Pietro ha una consapevolezza, perché ha detto, adesso lo dice così, Signore, tu conosci tutto. Quindi, quasi a dire, è inutile che ci vogliamo in giro. Tu sai che ti voglio bene. Allora Gesù ha detto, mi ami, mi ami, si è reso conto che Pietro non riesce, allora che fa Gesù? Si abbassa lui. Ricordate tutto il mistero dell'incarnazione? L'abbassamento di Dio. È Gesù che dice, mi vuoi bene, mi sta bene che tu mi vuoi bene. Se il tuo amarmi è amarmi con un bene di amicizia, mi sta bene che tu mi vuoi bene così. Allora Gesù non sta chiedendo nessun atto eroico, a nessuno. Non l'ha chiesto, a Simon Pietro non lo chiede neanche a noi. Ci chiede, il tuo cuore è capace di che cosa nei miei confronti? È capace di questo? Va bene questo. Capite la meraviglia? Dove sta? Mi vuoi bene? È inutile che dico, Signore, io vorrei, io vorrei, io vorrei, io posso questo. Permettetemi la banalità. Posso darti una caramella? Ti do la caramella. Ma ti do la caramella. posso darti la vita, ma ti do la vita. Posso darti una carezza, ma ti do la carezza. Ecco allora, quello che Gesù fa capire a Pietro adesso, dice Pietro, io ti conosco così, sei conosciuto così, e non presentarti davanti a me diversamente da quello che sei. Dammi quello che mi puoi dare. Perché in questo scambio di donazione, nella verità e nella sincerità, sa che noi possiamo costruire qualcosa, non nell'illusione. Vedete, l'io ideale può essere un nemico dell'io ideale, dell'io reale. Sentiamoci allora profondamente, era qui che volevo portarci, che qui vogliamo portarci, perché voi lo sappiamo, le domande sono sempre domande risolutive nella nostra vita. E voi lo sapete, l'uomo si realizza solo perché è amato. È nell'amore che ci realizziamo. Non ci illudiamo, lo sapete meglio di me, non ci si realizza nel lavoro o in una posizione. Possiamo avere anche una posizione sociale, possiamo avere anche un lavoro che è ben avviato, ma quante volte le persone che hanno un lavoro ben avviato e una posizione sociale non stanno a posto, non hanno trovato ancora il senso alla loro vita. Invece quante volte le persone che, anche se non hanno ancora un lavoro, oppure un lavoro precario, oppure non hanno un'altissima posizione, ma che si sentono amati, hanno raggiunto il senso, hanno trovato il senso della loro vita. E finquanto noi non scopriremo di essere amati così come siamo, da Dio, e non capiremo che Dio vuole essere amati da noi così come siamo, noi non saremo mai dei realizzati. Saremo sempre alla ricerca di altro, saremo sempre inquieti, anche se possiamo tutte le domeniche, o tutti i giovedì, o tutti gli altri martedì, o tutte le altre volte, in Chiesa a fare gli incontri, a partecipare alla celebrazione. Possiamo fare anche la comunione tutte le volte, ma se non capisco di quanto sono amato da Lui così come sono, di poterlo amare così come sono, sarò sempre inquieto. E purtroppo, lo sapete qual è, un animo inquieto genera inquietudine. Un animo in pena genera pene. Un animo pacificato dall'amore genera pace e amore. Signore, tu conosci tutto, tu sai che ti voglio bene. È la verità di Pietro. capite, quando siamo conosciuti dentro e fuori, non abbiamo più bisogno di maschere. Il rischio più grande, sapete qual è, di poterci mettere una maschera anche davanti al Signore. E il rischio è che noi possiamo illudere gli altri, ma se illudiamo il Signore noi illudiamo solo noi stessi. Ecco allora, le nostre fragilità, il nostro peccato, diventano luoghi dove il Signore usa misericordia e guarisce. Allora, quelle cicatrici del nostro peccato anche, delle nostre ferite, quella cicatrice è il Signore che è venuto a ricucire con l'amore. E quel filo di sutura che sta lì dice l'amore paziente di Dio. Proviamo a dirci la verità. Chi di noi è santo per poter stare davanti a Lui in questo momento? Se davanti a Lui stanno gli angeli. E ci stiamo, sapete perché? Perché Lui ci ama. E adesso noi non ce ne stiamo accorgendo, Lui sta cucendo, ricucendo le nostre ferite. Tutte. Ma noi ce ne stiamo accorgendo. non ce ne stiamo accorgendo, noi. Se provate a rileggere tutte le esperienze dei profeti, tutte, sapete che dicono io sono un uomo morto perché ho visto Dio. Noi siamo troppo abituati e l'abitudine non fa bene all'amore. Ricordate come iniziamo gli incontri biblici, diciamo facciamo finta di non sapere le cose della Bibbia. uno dei termini e dei significati etimologici dell'adorazione significa adorare, significa non tanto celebrare con inni di lodi e di adorazione la presenza del Signore. a livello etimologico adorare significa portarsi la mano davanti alla bocca. L'adorazione è questa a livello etimologico. Io sto adorando ora così ed è l'atteggiamento più giusto. Sapete perché? Perché se io adoro così è come se dicessi mi metto la mano davanti alla bocca così non dico stupidaggini davanti al mistero. e faccio sì che il mistero parli. Allora a un certo punto noi ci dovremmo anche vedere schiacciati da questo mistero. Ma non schiacciati perché vuole annullarci nel modo più assoluto no, proprio perché riconosciamo questa grandezza. di chi continuamente ogni giorno ci ripete e ci dice mi ami e io vedendo la mia vita gli devo dire non lo so ognuno poi gli deve rispondere Signore tu sei tutto. C'è un altro passaggio che è necessario perché a questo Signore tu sei tutto tu conosci che ti voglio bene gli disse Gesù pasci le mie pecore in verità in verità io ti dico quando eri più giovane ti vestivi da solo e andavi dove volevi ma quando sarai vecchio tenderai le tue mani e un altro ti vestirà e ti porterà dove tu non vuoi questo disse per indicare con quale morte egli avrebbe glorificato Dio il martirio di Pietro quindi vedete aver capito chi sono perché lui mi fa capire chi è mi porta che cosa? Pasci i miei agnelli la Chiesa che cos'è? La Chiesa è il luogo dove si annuncia dove si grida dove si proclama l'amore di Dio la Chiesa non è il luogo dei certificati la Chiesa non è il luogo dei gruppetti la Chiesa non è il luogo dove mi piace stare con questo perché sto bene con questo e non con l'altro la Chiesa è il luogo dove ci sono delle persone come Simon Pietro che dopo aver detto non lo conoscono non lo conosco si ritrovano insieme perché convocati da Lui per dire momento facciamo i conti ma il conto che voglio fare con te è questo sei disposto ad amarmi nonostante il fatto che tu mi abbia rinnegato perché sapete il rischio qual è? che noi ci lasciamo influenzare dai nostri sbagli sei disposto Gesù dice ad amarmi nonostante il fatto che tu mi abbia rinnegato o quel rinnegamento diventa così forte nella tua vita addirittura ad ammetterlo prima del mio amore verso di te quante volte i nostri peccati diventano un alibi per non cambiare quante volte quando diciamo sono fatto così diventa un alibi per non lasciarci leggere dentro dal Signore io e voi siamo quelli che dovrebbero dire Signore tu conosci tutto tu sai che ti voglio bene o che ti amo perché il servizio che Gesù affida a Simon Pietro pasci le mie pecore cioè prenditi cura delle mie pecore è proprio in questo ordine qui cioè prenditi cura come io mi sono preso cura di te e io mi sono preso cura di te come? dandoti l'amore anche se tu mi del bene quindi vuol dire che io nel governo delle persone come lui e mi ha nutrito così io nutro ma anche se l'altro poi non corrisponde dalle quale sì perché così ha fatto anche lui Simon Pietro allora capite se noi ci chiediamo che cosa abbiamo ricevuto non che cosa diamo perché noi abbiamo sempre questa mentalità da qui noi abbiamo sempre la mentalità di dare il nostro la nostra religione la nostra fede il nostro essere cristiani è che dobbiamo dare qualcosa dobbiamo dare le preghiere dobbiamo dare gli incontri dobbiamo dare ma sapete qualcosa il nostro essere credenti cristiani la chiesa è un grembo che accoglie noi siamo quelli che accolgono che cosa? l'amore di Dio provate per un attimo a immaginare se noi venissimo tutte le volte in chiesa con le mani così e Dio ci mette l'amore nelle mani e noi uscissimo così dalla chiesa con l'amore in mano perché tutti quelli che poi man mano incontriamo se ne possono prendere un pezzetto sapete invece noi che facciamo? la nostra presunzione è così grande che pensiamo sempre che noi dobbiamo portare a noi qualcosa qui come se lui senza quello che questo nostro non potesse vivere e smettila dice lui una buona volta smettila di avere queste mani chiuse vieni con le mani aperte perché così te le posso riempire abbiamo le mani troppo chiuse e lui non le può riempire apriamo le mani io non so mi pare che ve lo dissi già l'anno scorso in una comunità fui invitato per celebrare la festa di San Antonio però se già ve lo dissi sapete San Antonio si benedice il pane allora lo dissi ai fedeli mi raccomando adesso non è che prendete il pane qui da portarlo a casa perché si va in salumeria per fare questo il pane di San Antonio è il pane della carità significa quel pane che tu prendi è guardate quelle pane anche se purtroppo l'abbiamo visto i segni purtroppo però quelle pane il pane che viene benedetto è perché deve diventare benedizione con gli altri quindi tu camminando per la strada col pane che hai preso man mano che cammini le spezza con quelli che incontri un pezzo a te un pezzo a te fin quando devi tornare a casa che tu non avrai più neanche un pezzo di pane neanche un pezzettino piccolo allora si che avrai mangiato il pane della carità ma scusate io vengo a fare la comunione poi me ne torno a posto e poi me ne vado a casa metto pure le mani giunte faccio il pane per chiedere ad orazione e poi me ne torno a casa così come sono venuto ma che serve quella comunione che ho fatto? un altro ti vestirà e ti porterà dove tu non volevi capite io mangio per essere mangiato non mangio per staziarmi domenica scorsa nella comunità dove vado a celebrare questo dissi vedete io tengo un poco di pancia quindi voi vedete un poco di pancia e dice Maurizio ha mangiato mangia si capisce uno mangia da che cosa si è mangiato un pochino in più della pancia e io ho detto questo siccome la festa di domenica ci ricordava che Gesù viene per essere mangiato ma gli altri vedono che noi ci siamo fatti una pancia di Gesù Cristo si riesce a cogliere che ci siamo ingrassati di Gesù Cristo e qual è il segno di questa pancia grande Gesù Cristo è la carità che riusciamo a vivere altrimenti non ci illudiamo non lo dico perché stiamo in chiesa davanti al sacramento altrimenti dovrei usare un'espressione un poco particolare la addolcisco un poco va bene così ci capiamo se non c'è la carità ci stiamo solo prendendo in giro noi da soli con noi stessi non al parroco per far vedere oppure all'altro del gruppo all'altro così che io sono più no ci stiamo solo prendendo in giro noi stessi e quindi Gesù mi chiede un'altra volta mi ami? e io sì signore certo lo sai e detto questo aggiunse seguimi sapete seguimi che verbo è seguire giusto è il verbo della sequela seguimi seguimi è il verbo di chi è discepolo ma Pietro non era già discepolo di Gesù ora è discepolo non quando ha detto tu sei il Cristo il figlio del Dio vivente adesso lui dice seguimi quando ha detto il Signore tu conosci tutto tu sai che ti voglio bene seguimi seguimi sì se tu Pietro hai la consapevolezza di essere peccatore di non riuscire ad amarmi al cento per cento ma di riuscire ad amarmi così sì puoi essere il mio discepolo sì sei un vero uomo seguimi ma se hai la presunzione di è no continua ancora aspetta aspetta un altro poco seguimi ora che hai capito e lo puoi dire con consapevolezza Signore tu sei tutto tu sai che ti voglio bene seguimi mi puoi seguire è la prova la garanzia mi puoi seguire infatti Pietro lo seguirà arriverà a Roma vi ricordate sarà il crocifisso e si metterà a testa in giù gli avrà voluto bene l'ho amato gli è arrivato anche ad amarlo Signore Gesù stiamo qui davanti a te questa sera come tantissime altre volte nel nostro cuore sentiamo il tuo sguardo sentiamo quello sguardo di chi ama perdutamente la persona amata veramente ci sentiamo amati da te come veramente sentiamo di non riuscire sempre a corrispondere a quest'amore continua a ripeterci ancora ogni volta e sempre stasera domani mattina domani sera dopo domani ogni volta sempre se ti amiamo e se qualche volta fingiamo di non capire bene la domanda non per la terza volta ma anche per la quarta per la quinta per la sesta chiedici alla fine se ti vogliamo bene continua a donarti a ciascuno di noi e dacci soprattutto la consapevolezza di questo dono non permettere che possiamo abituarci a te come non permettere che ci abituiamo gli uni agli altri dacci la grazia di cogliere la bellezza dell'essere comunità così come siamo e quindi di di sapere anche che tra di noi ci sono le fragilità non solo nei tuoi confronti ma anche tra di noi e la consapevolezza delle nostre fragilità possa diventare la forza per volerci bene come è stato per Pietro davanti a te allontana da noi ogni presunzione di bastare a noi stessi e soprattutto ripetici la dolcezza di questa parola della sequela facci capire che vuoi anche noi come i tuoi discepoli ma proprio così come siamo né migliori né peggiori così come siamo grazie a tutti 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 grazie a tutti